Italia dei Valori unisce le forze con Antonio Ingroia nel movimento Rivoluzione Civile e lavora per l'alternativa di governo senza desistenze o compromessi con il PD. Lo spiega Antonio Di Pietro, ospite di ADN Kronos Confronti. Vogliamo offrire un'alternativa di governo da parte di persone delle istituzioni che hanno servito le istituzioni con la schiena dritto e che oggi si propongono per essere punto di riferimento di quei cittadini che non si vogliono arrendere né a non andare a votare né a votare in meno peggio né a votare chi oggi ti dice dammi il voto che dopo me lo vende il migliore offerente. Di desistenza in Sicilia il leader d'Italia dei Valori non vuol sentire parlare. Ci chiede a noi di non partecipare per permettere a personalità la crisi a fulli maniere di andare in Parlamento. Ma dico mi chiedi di fare intelligenza con il nemico, mi chiedi di vendermi per 30 denari. Chiede l'intervento del governo sul caso Fiat di Melfi. Da una parte garantire che l'operazione riesca, dall'altra stabilire delle sanzioni economiche evidentemente, vi compreso l'acquisizione e il sequestro delle quote e nel caso non vi provvede. Dice no a condoni e amnistia? L'ultima cosa da fare è quello di fare i condoni e le amnistie perché nei condoni e le amnistie ci vanno dentro i buoni e i cattivi. Allora bisogna provvedere a una rivisitazione del codice penale. Quanto al futuro del partito da lui fondato, l'ex PM ha le idee chiare. Intendiamo come Italia dei Valori partecipare alla costruzione e alla realizzazione di questo nuovo soggetto politico attraverso una fase congressuale, attraverso la spersonalizzazione dell'Italia dei Valori, attraverso una identità programmatica, politica, culturale che possa camminare con le sue gambe e non solo sulle gambe del suo fondatore.